Perché noi cominceremo dalla sfida di campionato, chiaramente, Inter e Juventus, che hanno due modelli totalmente diversi. Il modello dell'Inter più spumeggiante, che segna tanto, soltanto la coppia Lautaro... Ti scordate, casa Biscardi te la sei scordata? Biscardi, ti sei scordato casa Biscardi? Sta casa aspetta a te, sta casa aspetta a te. Hai ragione. Ma come è possibile? Ti scordi il microfono, ti scordi casa Biscardi, ma come è possibile? Non ti posso lasciare un attimo. Hai ragione perfettamente. Vabbè, si è presentato da solo, ma adesso lo presentiamo ufficialmente. Però è una nostra colpa. No, no, io pensavo che dovessi finire il discorso per quanto riguardava Massimo. Ah, ecco, stavamo arrivando. Lo vedi? Lo vedi che ci hai anticipato, ma a Marianna non sfugge nulla. Figurati se ci dimentichiamo di Gianluca Vigliotti. Allora il problema è che sfuggi a te. No, no, a me non è sfuggito. Io stavo semplicemente raccontando quello che sta per succedere. Noi partiremo da questa sfida tra Inter e Juventus, che sono due modelli differenti. Il Napoli da un po' di tempo a questa parte si sta, diciamo, aggregando, perché sta ottenendo dei risultati di una certa importanza. è una squadra campione in carica. Ci si aspetta di più, obiettivamente. Il Milan ha dei problemi molto seri, che ne dica Paolo Vinci. No, non ci dobbiamo fermare perché abbiamo ancora un altro collegato. Oggi sto nel pallone, non importa. Allora, ultimo, ma non ultimo, Marcello Chirico, buonasera. Secondo, ufficialmente secondo. Secondo, io adesso voglio capire una cosa, perché sarà il primo argomento che andremo a trattare. Inter e Juventus sono due modelli antitetici di calcio, sono due allenatori e anche un tipo di campagna acquisti, di gioco. Sono due opposti assoluti, però poi sono anche la dimostrazione che nel calcio non c'è una sola via, ce ne sono tante. Ma campagna acquisti, cioè l'Inter ha comprato, pur a vendi debiti ha comprato. E' venduto. L'Inter ha venduto e comprato. Non ha fatto mercato, chi ha preso? Quello è un mercato, ha perso per giunta, per strada, pubbà e fagioli. Noi siamo alla pari, non mi pare che siamo alla pari, però ci sono due punti. Sai, quando compri e vendi puoi vendere meglio o comprare meglio? Marcello, però ti teme Borrelli, mi chiede Borrelli che ti teme. E fa bene, e fa bene. Allora ragazzi, vedo Max Max che si fa esaltarsi. No, io non sono molto d'accordo. Tu hai detto che sono antitetici come modelli di tipo di gioco. In Zagli Allegri? No, in Zagli Allegri, l'Inter e la Juventus. Ah, l'Inter, ma secondo me hanno interpreti completamente diversi. Con qualità diverse, con personalità diverse, con situazioni, secondo me, di organico e rosa completamente diversi. E allora, abbiamo iniziato a parlare di Inter e Juventus, che sono a quanto pare le pretendenti, almeno su carta, per la vetta della classifica del nostro campionato. Assolutamente sì, e quest'Inter e Juventus lascia, oltre alla rivalità, lascia anche dei quesiti importanti. Perché l'Inter è la squadra che ha segnato di più, ha subito quanto la Juventus, parlo di gol. La Juventus ha segnato pochissimo, basti pensare che Turam e Lautaro insieme hanno segnato quanto i gol totali della Juventus. Però poi, quando vai a vedere i risultati, sono identici. L'unica differenza per cui l'Inter ha due punti in più è la partita con la Lanta. Allora, Michele. Ma gliel'avete detto, ha aggiunto lì Allegri che è pretendente la Juventus. Loro dicono che guardano la quinta, sette punti di vantaggio. Beh, per adesso evidentemente è bene stare un pochino... Schisci. Io l'ho messo subito tra le favorite a suo tempo, però la Juve metterla fuori gioco per me è sempre un'eresia. Sono d'accordo con te Maurizio. Qua ci siamo divisi dall'inizio dell'anno. C'è chi ci crede di più, chi ci crede di meno. Io ero tra quelli che all'inizio dell'anno ci credevano. Dopo aver visto un paio di prestazioni avevo iniziato ad avere dei dubbi. però adesso mi sembra che insomma sia una squadra che faccia vedere quelle che sono le sue armi finora. C'è una solidità difensiva, poter fare anche dei filotti in campionato dove non devi affrontare tutte le domeniche o l'Inter o il City o il Bayern. Devi fare il tuo con squadre anche con meno qualità di te perché la Juventus poi si sa nascondere però alla fine non è che non ha giocatori. Ha sempre il primo montengaggi della Serie A e la squadra... Che non vuol dire niente. Eh no, vuol dire perché vuol dire che quei giocatori li hai valutati. Non vuol dire niente perché se tu prendi un brocco e lo strappagio non vuol dire niente. Non vuol dire niente, non vuol dire niente perché se prendi quello che prende di più è fuori da due anni. A meno che non hai sbagliato tu. E poi vai ed è squalificato e non giocherà mai più. Quindi già lì ti levi un giocatore. Può essere che non vuol dire se hai sbagliato tutte le scelte ma non ha sbagliato tutte le scelte. Ma infatti delle scelte le ha sbagliate, le sta pagando e scusami la Juventus ha una Juventus 1.0, Juventus 2.0. La 1.0 era quella che poteva spendere che è in riferimento a quello che ha fatto nella campagna acquisti 2022 agosto 2022 dove ha sbagliato secondo me tante scelte. Ha sbagliato tante scelte. Però all'inizio della fine è stata quella operazione là. Ma non è detto perché uno può anche dire Ronaldo è costato, però è costato tantissimo anche Iguain per esempio. E nessuno parla che lì il passo più lungo della gamba ha cominciato a farlo con Iguain, non con Ronaldo. Nessuno va un po' indietro, però se poi parli con Paratici ti dice ma io caro mio hai ragione ma in quegli anni lì tu non dovevi vincere cinque scudetti consecutivi. Tu dovevi arrivare cinque volte consecutivamente alla finale di Champions perché io ti ho messo davanti Tevez, Dybala, Mandzukic, Ronaldo, Iguain. Aiutatemi voi, scusa, però quello nelle intenzioni assolutamente nobili, peccato che il dissesto finanziario con tutti gli aggiustamenti e le compensazioni e gli adeguamenti verso l'alto è iniziato da lì, è iniziato da lì, è iniziato da lì, è arrivato dal Covid. Perché col Covid sì, col Covid sono andate in difficoltà squadre che avevano una riserva capitalizia, lascia stare Exxon. Non come la Juve, non come la Juve. Il Barcellona peggio, tu mi lo dici, ma io parlo in Italia, il Barcellona peggio, io sto parlando di squadre top club in Europa, Marcellona e Real Madrid sono andate in difficoltà. No, però Massimo gli errori sono stati, le scelte di Sarri, la scelta di Pirlo, la biglietteria, il marketing e tutto quello che hanno perso a livello di incassi. Tra il livello di gestione tecnica. E a livello di marketing. Le scelte di Sarri, di Pirlo, questi cambi. Il pareggio del Sassuolo intanto, arriva il pareggio, il Sassuolo trova il gol nel suo primo affondo, lo trova con Tortsved che dal limite dell'area fa partire un sinistro. In questo momento voglio chiedere a Gianluca, il campionato parla a favore di Inter e Juventus, che ripetiamo hanno due modelli di gioco totalmente diversi. Però la squadra campione in carica è il Napoli, la quale ha iniziato malissimo. Adesso si stanno rimettendo le cose anche con Garzia oppure è un brodino quello che sta avvenendo? Cioè la domanda che ti faccio, il Napoli si può inserire nella lotta a scudetto tra Inter e Juventus? Rimanderei tutto, caro Maurizio, al 25 novembre. Il campionato del Napoli inizia il 25 novembre. Il calendario aiuta il Napoli dopo il mezzo passo falso con il Milan, che io lo considero più una sorta di miracolo, visto quello che il Milan ha regalato al Napoli nel primo tempo e l'ha consentito di rientrare in partita. Il Napoli perde in casa con Lazio, Fiorentina e Real Madrid, forse anche con il Milan, con le medio-grandi o con le grandi non fa bene. Ha fatto bene invece con le medio-piccole. Il calendario ha regalato la Serenitana e adesso domenica prossima regala l'Empoli. Parliamo di ultima e penultima. Mercoledì potrebbe esserci quasi il sigillo per la qualificazione in Champions con l'Union Berlino che viene da 12 sconfitte consecutive. Il campionato del Napoli dopo tutto questo abbrivio non può altro che iniziare il 25 novembre. Atalanta, Inter, Real Madrid, Juventus, insomma questo è il momento in cui si potrà capire se il Napoli può inserirsi di nuovo nella battaglia che in questo momento vede avanti Juve-Inter, ma che comunque io propenderei ancora ad avere un minimo di possibilità di apertura. Gianluca, solo Paolo, tu sai benissimo la situazione dei campionati che si vincono esclusivamente vincendo le partite con le piccole. o perdendo il campionato con le piccole. Vedi ad esempio il distacco del Milan adesso dovuto... Cioè è ferito in questo momento? No, sostanzialmente voglio dire il Napoli sta vincendo con le piccole, sta risalendo, sta lanciatissimo ovviamente adesso. Si fa tre punti anche domenica e tutto è previsto che... Vabbè ho capito, però Paolo ti ha detto il calendario alla ripresa che è... C'è un calendario poi alla ripresa che è terribile, vero? C'era Juventus terribile, c'era l'Inter edificio della ripresa. Ma quello del Napoli è quello più incredibile. Sì, ma è qualificato in Champions sicuramente. No, ho capito, ma per rientrare in corsa a scudetto? Sì, perché devi vincere lo scontro diretto con qualcuno. Esatto, passa da lì la risalita del Napoli. Però io voglio andare da Marcello, perché Marcello, poi alla fine della fiera, la domanda che si fanno tutti, dopo questa risalita della Juventus, questa tenuta della Juventus lo scorso anno in una situazione drammatica. Insomma, siamo proprio convinti che lo slash Allegri out sia qualche cosa che valga la pena continuare a fare. A dire? Ma sai, il tifoso della Juve, anche ieri, io ne ho sentiti tantissimi, non erano contenti di quello che hanno visto a Firenze. Però io dico anche, ma c'è, Allegri, non è che lo si conosce da oggi. Quando tu punti su Allegri, tu punti su un certo tipo di calcio. Poi lui può portarti i risultati come non può portarti. Nei precedenti due anni non c'è riuscito. Questo anno sembra che abbia assestato, di sicuro, assestato la fase difensiva. Perché la Juve, le sei partite, non prende più gole e questa è una cosa importante. Poi, quest'anno, la Juve non fa le coppe, per disgrazia sua, però potrebbe essere un vantaggio anche questo, se la Juve continua a tenere questo passo. Io personalmente ti dico, l'Allegri out non l'ho mai tirato fuori, perché, in fin dei conti, se sei tifoso della Juve non vai contro la tua stessa squadra. Quindi, alla fine, lo sopporti, non se lo critichi perché dici io avrei preferito un altro allenatore, ma quello c'è. Se però quell'allenatore torna, perché ricordiamoci che comunque Allegri, con il suo calcio preistorico e mesozoico, giurastico, come lo vogliamo definire, qual era il gioco? Adesso glielo chiediamo a Paolo come lo definiamo. Lo vogliamo porre. Comunque è un vincente, è uno che ha vinto. Ha vinto più lui di Inzaghi. In Inzaghi vince il vasellame. Questo ha vinto gli Scudetti. Sì, ma dal 2019. Però, Marcello, non è che si valutano gli addetti ai lavori solo col curriculum, perché allora richiami in panchina l'ottimo Trapattoni o che c'entra. Ma scusami, Paolo, Paolo, ma uno ha vinto... Non possiamo dire adesso che Allegri è un incapace. Ma no, ma chi... Ma non è Trapattoni questo. Questa è uno che allena ancora, è del 67. Sì, sì, però lui ha detto... Stai parlando di uno del 40. Sì, ma lui ha detto che ha vinto. Non puoi dire Trapattoni. Lo so, però... Cioè, dine un altro, non dici Trapattoni. Però gli ha detto ai lavori, le cose vanno giudicate nel momento. Non ha capito, però scusa... Però scusa, Paolo, io guarda che non trovo... No, aspetta, non mi fai... Non posso parlare? Allora, facciamo una cosa, facciamo una cosa. Allora, facciamo una cosa. Non ho detto niente. Eh, neanche io potevo parlare prima, mi ha interrotto. No, ho iniziato un discorso, mi ha interrotto. Allora, facciamo così. Se cominciamo così, facciamo male. Non ho parlato. Non ho parlato. Non ho parlato così. Eh, non hai parlato, meglio. Allora, Paolo, Massimo, facciamo una cosa. Entri in show per un paio di blocchi. Mettiamoci la pubblicità di pezzi. Mi riposo, dai, fai show. Eh, no, vi faccio riposare le lingue per un paio di minuti, va bene, durante la pubblicità. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Ben ritrovati, amici di Sette Gold. Allora, prima di, diciamo, assistere allo scontro Brambati-Bargigia... Non so che io vorrei dare qualche numero, però potrei chiedere, vorrei chiamare subito... Eh, no, no, infatti, prima dello scontro, vai. Eh, sì, subito Federico. Federico. Voglio che... I numeri li sto già dando da oggi, ma insomma, perché? Gli volevo chiedere una cosa. Cioè, parlavo della differenza dell'Inter con la Juventus... Sì. In quanto numeri, no? Sì. C'è un numero che spicca in maniera particolare? Guarda, allora, il numero che è identico per entrambe è quello dei gol subiti. Ne hanno subiti sei tutte e due, quindi hanno due ottime difese, infatti sono le prime due difese del campionato, poi c'è il Bologna con otto, quindi questo per dire che, insomma, entrambi hanno la caratteristica di subire poco. C'è tanta differenza, invece, nei gol segnati. L'Inter ne ha fatti 27, la Juve ne ha fatti 17, sono 10 gol in meno in 11 partite, il che vuol dire praticamente quasi una media di un gol in meno a partita. C'è un dato ulteriore, cioè che Lautaro e Turam insieme hanno segnato 16 gol. Quindi i due attaccanti dell'Inter hanno segnato un gol in meno di tutta la Juve. Quindi questo, insomma, la dice Luga sulle differenze, no? C'è un dato. Però c'è un dato. Sì. Ve lo fai completare. Perché uno potrebbe dire, ma come fanno ad avere due punti di differenza? Secondo me i due punti di differenza, lui diceva, in parte, con ragione, diceva, le due trasferte di Bergamo, uno l'ha vinta, l'altro l'ha pareggiata. Ma siccome poi le squadre si mischiano, magari l'Inter non ha ancora giocato con una squadra con cui ha giocato la Juve, eccetera. Secondo me il dato importante è questo, che la Juve dei sei gol, quattro li ha presi in una gara sola. Sì, con questa squadra. Quindi vuol dire che tu prendi quattro gol, perdi, ma dei sei che hai preso in undici partite hai preso due gol soltanto. Allora, praticamente, in dieci partite... Cioè, poteri perdere più partite, uno a zero, per dire. Quello che dice, perché era quello che poi dove volevo arrivare, è nella domanda a Paolo. Sì, però voglio dire un'altra cosa. Un attimo, un secondo. La Juventus ha fatto 16 degli ultimi 18 punti nelle ultime sei partite. sei gol fatti, zero subiti, quindi vuol dire che praticamente ha fatto un gol a partita. Tutte uno a zero. Uno a zero, uno a zero, uno a zero, uno a zero. Sì, ma... Eh, questo è una filosofia. Sì, però Maurizio, Maurizio, però... Forse era una domanda per me, però qui oramai stasera è tutto in bacca. Maurizio risponde. Ma mi fumo subito da te, Marcello, perché ti volevo far concludere, Marcello. Ti fai una domanda, interviene un'altra. Ma io non sono in studio, Paolo. Cosa posso capire? Vai, 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 vai. Vai, così mi aiuti nella risposta. Perché se no non riusciva a rispondere. Vai, vai, vai. No, ma io volevo soltanto dire, fare un appunto a Maurizio, dicendo... Sì, Maurizio, continuiamo a tirare fuori le statistiche. Cioè, ogni volta è questa, è questa. Il dato di fatto è un altro. Dopo 11 giornate. La squadra favorita, che è l'Inter, la squadra favorita è l'Inter, che ha tutto. L'Inter ha tutto. Ha la squadra, ha il miglior gioco, ha il miglior attacco, ha il capocannoniere, c'è tutto. L'Inter è a due punti da una Juve che tutti, fino all'altro ieri, e ancora oggi diciamo, che è meno dell'Inter. Non è contro lo stesso piano. Ha perso anche dei giocatori per strada, un allenatore vecchio, una squadra dell'anno scorso. E nonostante tutto... Io penso che voi vi nascondete un pochino. L'anno scorso, in Napoli, se ne è andato l'anno scorso. Non credi totalmente a quello che dici, perché non è possibile. Invece quello che crede a ciò che dice Paolo, perché lo dice dall'inizio. No, io volevo fare questa analisi. La gara di ieri non è la partita... Non è la stessa partita che la Juventus ha fatto in precedenza. Cioè, è stata la gara più brutta esteticamente da vedere. Ma io oggi, cioè anche parlato, mi sono informato, insomma, sono i primi quelli della Juve ad aver avuto la consapevolezza di aver fatto una partita troppo brutta con questa riflessione che è emerso più delle altre volte che contro le squadre che tengono il campo e fanno gioco, anche se poi della Fiorentina dovremmo parlare perché non fanno mai gol, no? E ne prendono sempre. Ecco, la Juventus non sa palleggiare. Secondo loro, un po' perché ha giocatori che non hanno queste caratteristiche, un po' perché probabilmente non è allenata per palleggiare, per tenere palla. E quindi è ovvio che si metta a protezione dell'area. Solamente che ieri la Juventus è tornata a difendere troppo bassa, quasi dentro l'area, come lo scorso anno. E questo modo di difendere, che per questa stagione è un po' una novità, perché la Juventus, possiamo dire di tutto, però si difendeva più alta nelle altre gare, no? Non era quasi più a 5 e difendeva a 4, quando abbassava o il quinto o la mezzala. A Firenze questa scena si era già vista. Ti voglio dire questo, il campanello d'allarme, se tu fai una partita come ieri, la porti a casa. Ma difendere così basso, se si ripete, non ti dà più questa continuità di risultati, perché tu vai troppo a stressare i difensori. Cioè, li fai difendere dentro l'area. Però Paolo, sono d'accordo con te, cioè Juve Verona è stata un'altra partita. Ti ricordi, ti ricordi l'anno scorso Bremer che fatica faceva perché difendevano sempre dentro? Però Juve Verona è stata un'altra partita. Esatto, io voglio dire che la Juve stessa considera la gara di ieri un po' un'eccezione in negativo. Bisogna vedere se ci sarà continuità in questo. Però non c'era la sensazione che la Fiorentina stesse per pareggiare, almeno io non l'ho avuto mai questa sensazione. Guarda che l'hanno avuto pochissimo la situazione. Si sono abbassati troppo. La sensazione che la Fiorentina potesse pareggiare. Allora, a parte le sensazioni, io dico che non stiamo scoprendo assolutamente l'acqua calda e vi spiego il motivo. Il motivo è che Allegri ha sempre giocato così, con degli interpreti diversi, con un'altra personalità e un'altra caratura, caratura tecnica. Fammi parlare. Quest'anno non ha giocato come l'anno scorso. Barzagli come no. Barzagli, Bonucci, Chiellini e Buffon hanno costituito lo zoccolo duro perché? Perché quando andava in vantaggio la Juve si chiudevano tutti e si mettevano tutti a difendere nell'area di rigore. Ce lo ricordiamo a volte in alcune partite, adesso mi è venuta in mente una, quando la Juventus in Champions perse col Manchester United di Mourinho, vinceva 1-0, perse 2-1, se non sbaglio. Non mi vorrei sbagliare, che fece entrare Barzagli negli ultimi minuti. La verità è che però, quando tu, scusami Paolo, però questa te la dico perché ho giocato a calcio. Questa te la voglio proprio dire così. Quando tu giochi con davanti Di Gennaro o quando tu giochi con davanti un giocatore che invece è una pippa di Serie C e tu dai la palla alla pippa di Serie C o dai la palla di Gennaro. È una roba ovvia. Allora sei tu che interrompi. Mi hai detto Paolo, ascolta. Ma non ha finito. Ma è ovvio. Ma non ha finito, c'è personalità. Prima avevano un centrocampo, ti parlo solo del centrocampo, Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba. Secondo centrocampo, Matuidi, Pjanic, Chedira, tutti quanti, due ex campioni del mondo, è uno che lo volevano tutti. Ma cosa vuol dire con questo? Vuol dire che se tu dai la palla a Pjanic ha le caratteristiche per fare quello che dicevi tu, tenere la palla. Oggi la Juventus non ha quelle caratteristiche. Ma scusa, ma io cosa ho detto? E lui fa con i giocatori. E infatti sto dicendo, non hai scoperto l'acqua calda. Nell'analisi della Juve hanno notato che ieri, particolarmente con le squadre che ti tacano... Ma non è che hanno notato, ma lo sanno. Non lo sanno perché avevano preso Pogba sperando che Pogba fosse quello della Juve numero uno. Però, però, ti dico una cosa. Per far alzare il tasso di personalità, di palleggio. Sì, ma nelle precedenti partite... Poi hanno provato a fare qualcosa di un po' diverso. Scusami, nelle precedenti partite quest'anno è ovvio che giocava sempre basse e prediligeva la fase difensiva. Ma non era così schiacciata come ieri a Firenze. Ma perché la Fiorentina in quel caso... No, ma perché... E certo, ma dipende anche dalla squadra che incontri. Se incontri il Verone è certo che non ti schiaccia. No, no, no. Se incontri la Fiorentina o l'Atalanta, che hanno caratteristiche che ti mettono là... Ma non è così, non è così, perché è stata una scelta tattica anche di Allegri. Ma che scelta tattica. Che l'hanno scorso. Le scelte tattiche avvengono anche a seconda degli uomini che hai a disposizione. Sì, ma io sto parlando degli uomini che hanno, che scopero. Eh, ma hanno uomini a disposizione. Ma è inutile andare a rimangare quando avevano... Eh, ho capito, ma io ti devo parlare dell'Allegri primo, scusa. Ma no, io sto parlando dell'Allegri adesso. Non ti devo parlare del primo Allegri. Ma noi stiamo parlando... Ma però tu stai parlando di Allegri, scusa. Ma noi stiamo parlando di quanto questa Juve potrebbe essere competitiva per lo Scudetto. Ma non è competitiva per vincere lo Scudetto. Ma ce l'ha detto. Ma te lo dico io. Poi se tu mi dici... Ma se il 26 novembre vince a Torino con l'Inter... Eh, cosa fa? Se vince a Torino con l'Inter cosa fa? Prima. Eh, prima per quanto tempo. Per me... Allora, allora, può anche vincere lo Scudetto. Per me può vincere lo Scudetto. Può anche vincere, non l'ho detto, però non è attrezzata come l'Inter che ha due giocatori per reparto. Quindi se l'Inter... Vai a vedere, scusami. C'è squalificato Rabiot col Cagliari. Ok? Vai a vedere chi ha a disposizione la Juve da mettere al posto di Rabiot. Vai a vedere. Però poi non ha tre partite a settimana. Non ha detto scusa, ma è una tua idea. Non ho detto che... Io vengo qui a dire le idee mie. Scusami. Dica le idee di Scudetto. Ma è ovvio, però non far cambiare la mia. Ma che non far cambiare la mia? Che non lo devo dire la mia? Ma è bello se ti... Ma io mica ti voglio far cambiare la tua. Ma io mica voglio far cambiare la tua. Non vengo qui a dire le cose che penso. Ma non è che il calcio è il tennis dove uno più uno... E' uguale. Perché allora il Napoli ha sicuramente la rosa più forte della Juve. E' quello che volevo arrivare. Ed è dietro. E' di dire. Ma io non ti sto mica dicendo che la Juve non può vincere perché ha la rosa più scarsa o l'organico meno completo. Ma no, ma voglio dire... Io ho detto solo una cosa... Ma il mondiale nell'82 doveva vincere l'Italia? Vabbè, l'82 dai. Cosa vuol dire? Ti sto tirando fuori il mondiale del 2006 doveva vincere l'Italia? No! C'erano altre squadre favorite. Ma io sto dicendo questo. Che la Juve di Firenze ieri se continuerà a giocare così, secondo me esce dalla corsa Scudetto perché poi stressa troppi i difensori. Ma non è in corsa Scudetto. Lui non sta nascondendo di niente. Ragazzi, ma siamo all'undicesima. Ma l'Inter di Spalletti nelle prime undici giornate per due anni consecutivi era prima. È arrivata a quarta a 26 punti. Ed è paragonabile. No, non è paragonabile. Perché non è paragonabile? No, dai. All'undicesima di giornata non si possono far stilare progetti. No, no. Si vede che l'Inter ha la qualità per arrivare fino a scuola. Però scusate, allora gliela faccio dopo. La facciamo dopo. Ti farò la domanda era questa. Siccome parliamo di squadre attrezzate, insomma, forse prima della Juventus come squadra attrezzata ci sarebbero in Napoli. Ma capite, però non avere tre impegni a settimana è un fattore. E anche il Milan l'ha fatto una campagna, quindi poi nel Milan parleremo abbondantemente. perché sono successe tantissime cose e quindi abbiamo tantissime cose da raccontare. E ne succederanno tantissime. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ripartiamo con Vigliotti. Sì, infatti invito i nostri ospiti a avere veramente una damigiana d'acqua. Sì, sì, sì. Ci vediamo tra pochissime. Questa difesa formata appunto da Rugani, Bremer e Gatti, o rimpiangi comunque qualcosa per dire Alessandro e Danilo? Beh, Danilo sicuramente è un giocatore che è importante per questa difesa della Juve. Però bisogna dire che la difesa della Juve, che ho visto anche ieri sera, l'ho vista molto ermetica, molto ben organizzata, vuol dire che Allegri ci sta lavorando molto bene sopra, sta ottenendo degli ottimi risultati. Cioè, tu in Serie A, in un campionato come quello della Serie A, che non prendi sei gol, che non prendi gol da sei partite, cioè è tanto. Cioè, non è un elemento da poco, visto che prima citavamo le statistiche. Però io ripeto, continuo a sottolineare il fatto che comunque, sì è vero, la Juventus ha perso a Sassuolo, ha fatto praticamente il disastro quella sera, ma c'è qualcun altro che in casa ha perso con Sassuolo e ha anche pareggiato in casa col Bologna come ha fatto la Juve. Con partite completamente diverse però. Ed è la squadra favorita, perché non possiamo paragonare minimamente quest'Inter con questa Juventus. Se tu parlassi con Allegri, Allegri in separata sede, non mai davanti ai riflettori e mai davanti a una telecamera, non ti dirà mai che questa squadra la ritiene mediocre. Ma lui dentro di sé non è completamente soddisfatto, lui non vorrebbe lavorare con questa squadra. Però Marcello sei d'accordo? Però nonostante ci lavori con questa squadra, qualche risultato lo sta ottenendo e ripeto, all'undicesima, la strada è lunghissima. Però Marcello sei d'accordo che proprio le partite che hai citato, le partite dove l'Inter ha anche perso punti con Bologna, Sassuolo, ma anche Atalanta e Inter, sono partite che si sono sviluppate molto diversamente. Quella cosa che tu dici, io sono d'accordo, anche lo diceva Massimo prima, ci sono organici diversi, perfetto, ma perché devono fare competizioni diverse? L'Inter deve giocare dopo domani, la Juve prepara Juve, Cagliari, così come domo tra Juve e Napoli, l'Inter e il Benfica. Ma ma c'è la ragione che l'Inter dovrebbe staccarsi? Cioè la Juve, l'Inter non dovrebbe avere la Juve dietro a due punti, la Juve la dovrebbe già aver staccata. Ma l'Inter sta facendo il suo, è la Juve che sta facendo bene. No, la Juve sta facendo, ha fatto, la Juventus ha fatto otto partite senza incassare gol delle undici. Sì, ma l'ha fatto anche l'anno scorso una serie di... Però ha ragione lui, l'Inter sta facendo il suo. 28 punti. Marcello, è la Juve che secondo me mi sorprende, per l'organico che ha mi sorprende la classifica. E per questo voglio andare a Napoli, perché per l'organico che ha, forse la grande delusione dopo la Lazio, dopo la Lazio che sta veramente arrancando, è proprio il Napoli, il quale sta recuperando, ma è partita con mille difficoltà. Allora, è un campionato in cui gli Inter e Juventus detteranno un po' legge o si stanno assestando le cose? Il Napoli supera i problemi e dimostra di essere una squadra perché l'organico, parliamoci chiaro, il Napoli non ha un organico che dovrebbe stare lì dietro, ecco. Sì, come organico sì, ma i problemi li abbiamo sviscerati prima, ci sono stati, sono stati evidenti, un approccio non sicuramente dei migliori, quello là di Garcia. non avrebbe De Laurentiis fatto un casting bis se Napoli fosse andato bene, non avrebbe provato a prendere Antonio Conte, non starebbe a Castelvolturno ogni giorno se le cose fossero senza nessun tipo di problema. Ribadisco, abbiamo rimandato tutto per una valutazione generale, forse definitiva tra fine novembre e inizi di dicembre, al di là della qualificazione comunque importante in Champions League se Napoli batte mercoledì l'Union Berlino e poi il resto si vede. Io credo che l'unica certezza incontrovertibile sia quella della strapotenza in questo momento superiore alle altre da parte dell'Inter, che al di là del mezzo passo falso col Bologna e della sconfitta col Sassuolo ha dimostrato di essere tra le più forti. Però Gianluca, siccome parliamo di calcio, scusami Maurizio, scusami. Maurizio, perché poi non so quando riuscirò a intervenire. Sì, no, ti volevo fare una domanda sulla tua affermazione. Sì, ma siccome parliamo di calcio, ci proviamo a farlo. Maurizio, caro Maurizio, quando Brambati ti racconta della rosa della Juventus, ti dice una cosa realistica, la stessa cosa dice Marcello, è quello che non può dire poi Allegri. Ieri entrano Milik e Vlaovic per Chiesa e Ken, i quattro di attacco, ma vi leggo la panchina della Juventus con Julesen, Iling Junior, Nicolussi Caviglia, Pierino Vinzoglio in porta, Ildiz, Nong, Boet, cioè voglio dire, la Juve è cambiasso che è entrato, cioè la rosa della Juve è questa, cioè qua parliamo di calcio, la rosa della Juve è questa, sta ottimizzando il massimo di quello che può fare in questo momento. L'Inter, con i problemi del Milan, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo con Gianluca, si è letto i nomi, ragazzi ma non è questa la questione, no io non ero d'accordo con Michele, perché Michele diceva che la Juve deve fare solo il campionato, cosa vuol dire? Ma non c'entra, ma non c'entra, la Juve ha perso, Pogba e Fagioli che non li avrà più, sono due pezzi, ma sono due pezzi, scusami però, sono due pezzi che stavano all'interno dell'organico di centrocampo, come? Prenderà un centrocampista a gennaio, eh ho capito prenderà, io ti sto parlando di adesso, magari non li prende, Rugani sta giocando perché Danilo e Alexandro si sono fatti male, ma sono già cinque difensori, ma il livello è inferiore, cioè in Inter ha speso 30 milioni per prendere Pavard, ho capito, ma anche ha ceduto per cento milioni pure, no ma io non sto parlando di ha ceduto, io ti sto dicendo, l'organico della Juve non è l'organico dell'Inter, ma ci sono tre spanne, ma non per il campionato, ma non per il campionato, anche il Napoli e il Milan sono più profondi della Juve, ma non per il campionato, ma non mi sembra di andare da Paolo, un attimo, voglio andare da Marcello, però scusa Maurizio una cosa veloce, se io devo preparare la partita, Rabiot sta giocando tutte le partite, adesso è squalificato e salterà la prima volta, lo può fare perché non ha la coppa, se tu hai la coppa devi fare il tuo nome per il fuoco, ma non è questa la giustificazione di avere questo organico, hanno speso zero quest'anno, hanno preso UEA e cambiasse, gli altri hanno incassato, ma no, ma non è solo questo, hanno chiuso i rubinetti, ok, non spendono più niente, allora prima di andare da Marcello vado da Paolo, c'è ragione Gianluca, ma le hanno chiusi davvero i rubinetti o le hanno parzialmente chiusi, cioè in attesa di tempi migliori? No, a febbraio prenderanno un centrocampista, però con un prestito oneroso molto contenuto da 3-4 milioni di euro, perché se no la UEFA non li fa iscrivere al campionato, hanno chiuso a meno 125, vale per tutti i regolamenti? No, niente, però adesso faranno così, io so che anche l'anno prossimo lavoreranno sulla filosofia di quest'anno, cioè anche l'anno prossimo. Quindi non è solo quest'anno? No, 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 il piano di ristrutturazione è su due anni, è chiaro che entrando poi in Champions l'anno prossimo magari invece di mettere 10 per il solo UEA magari puoi aggiungere qualcosa. Ma possono fare meno 60 come tutti gli altri. Però se tu noti, loro sono molto attivi con la politica dei rinnovi dei contratti, no? Hanno fatto gatti, adesso tra poco annunceranno fagioli, però tieni presente l'aumento di capitale. Poi lavoreranno su Bremer, adesso c'è l'aumento di capitale. Sì, però l'aumento di capitale è per risanare, non è per fare. Marcello, l'aumento di capitale ti dà la possibilità di avere un pochettino più di margini. Sì, però l'aumento di capitale l'hanno anche detto. Non verranno messi lì quei soldi, però tu cominciai a essere già più di nuovo in attivo. L'aumento di capitale, Marcello, serve per i conti pregressi? Tu capito, è quello che ti sto dicendo. Sì, sì, però c'è un obbligo. Però io stavo rispondendo a Maurizio. Per gennaio e per il prossimo anno la filosofia è sempre la stessa. Allora, se la filosofia è sempre la stessa e vado da Marcello, insomma, l'hai sentito, ha tirato Gianluca un sasso nello stagno e praticamente ha messo a nudo una situazione in cui c'è una rosa buona, o meglio, c'è un undici titolare decisamente buono, ci sono due o tre giocatori che possono essere, diciamo, delle ottime sostituzioni e poi i nomi che abbiamo sentito, insomma. Ma Gianluca ha detto la verità. Ma lo diceva anche Massimo prima, la stessa cosa, eh? Cioè, nel senso, quella è la rosa della Juventus. La rosa della Juventus, tra l'altro, perdendo definitivamente Pobba, perché è vero che Pobba non l'hai usato, però pensavi, tu non hai investito, proprio perché dicevi, vabbè, Pobba prova a recuperarlo. No, l'hai perso. No, la Juventus non ha perso. Poi perdi anche Fagioli, poi perdi anche Fagioli, che era comunque un giocatore che era utile. Il problema di fondo è questo, che la Juventus ha interpretato. Cioè, capisci che in queste condizioni, con la squadra dell'anno scorso, tu hai una squadra che è sicuramente inferiore alle altre. Quindi, a maggior ragione, a maggior ragione, quei due punti di distacco dalla fortissima, incredibile, spaziale, universale, in fantastica Inter, sono pazzeschi. Ma perché ti diverti a vedere l'Inter, lo dici? Perché quando vedi le partite lì ti diverti. Con l'Atalanta al primo tempo mi sono molto divertito. L'hai sentito? Eh, Atalanta Juve l'ho vista, l'ho vista Atalanta Juve. Dopo il rigore è dato in scesa. Eh, ho capito. Ma in intercala continuamente. Ah, io in intercala ho visto niente, fino al rigore. La fortissima, bellissima, fantasmagorica Ida ha fatto dieci gol in più della Juventus. No, io la domanda è, allora, stando a quello che ha detto Marcello, la riflessione. Ti dà una squadra che è mezza scalcinata, te l'ha descritta Vigliotti, non te l'ho descritta io. E tu ho capito, ma infatti hai visto come hai vinto, l'ha detto pure i Cesni, non abbiamo mai sofferto a parte 89 minuti. Allora, insomma, il senso è questo, se quello che ha detto Vigliotti è vero, poi è stato avvallato pure da Massimo, da tutti quanti, e la Juventus ha queste problematiche, ma allora vuol dire che il lavoro di Allegri è un lavoro. E' un lavoro sublime quello di Allegri, infatti, non lo dubbio da questo punto di vista. Quello è un miracolo, quello che sta facendo Allegri con questa squadra, in questo momento, con i suoi mezzi, con le sue filosofie, è un miracolo. Perché chi te lo diceva che l'undicesima giornata la Juve era a due punti dalla fantasmagorica Ida. Io sto dicendo che è verissimo, gli aggettivi che tu iperbolicamente hai rappresentato sono veri. Io sono d'accordissimo con te, con Vigliotti e soprattutto con Brambati, perché sostanzialmente gli interpreti oggi sono diversi. Una cosa è difendersi a oltranza, come ha fatto ieri Bremer, 54 volte di testa in area. Stare stretti quando davanti non siano giocatori come Chiedira, come Matudì, interpreti che permettono di rifiatare un po' la squadra. Adesso ha giocatori di basso livello e non riesce a fare la ripartenza come deve fare. Però non paragoniavolo all'Inter, che mi piace, mi chiede. È una squadra che ha due squadroni. Ma Bremer 50 milioni, Rabiona, Siale Francese, Vlaovic, 90 milioni, Chiesa Nazionale. Si vuole tirare indietro rispetto a un fatto... Ma chi si vuole tirare indietro? L'unico che si tira indietro è Allegri. L'unico che si tira indietro è Allegri. Ieri si è messo a ridere e una barzelletta si nasconde dietro di questo. Ma non è vero anche noi. Ma Barzagli ieri gli ha chiesto, ma a Maxi non gioca a nascondersi. L'unico che si è messo a ridere. La partita contro un inconcludente... Ci dobbiamo tirare indietro anche noi. No, fermati, Marcello, perché dobbiamo andare in pubblicità. Devo dire una cosa, Marianna. Con una frasetta, con una riflessione più che con una frasetta, Gianluca praticamente ha gettato un sasso nello stagno. Voglio vedere se altrettanto bravo, comincerò da lui dopo quando parliamo dell'Inter, voglio vedere se altrettanto bravo a trovare lo spunto per farci discutere sulle caratteristiche dell'Inter. Ma secondo me ne troverà anche più di uno. Nel frattempo pubblicità. Atravati amici di Settegold. Allora, riprendiamo intanto, giusto per smorzare un attimino gli animi in studio, che probabilmente è anche a casa, con un sondaggio il primo della serata. E sarà solo Juventus e Inter lotteranno per lo scudetto? Sì o no? Nel senso, si inseriranno altre squadre. Ho visto già Figliotti che sta mandando il suo no. Io Maurizio, poi lascio la palla a Gianluca. Sai che io continuo a non credere per lo scudetto, nel Napoli. Gianluca mi spiace, ma io credo poco in questo Napoli, non perché la squadra non sia forte, sostanzialmente quella dell'anno scorso, vabbè, a parte Kim. Ma a me proprio non piace l'allenatore, non piace come gioca, non vedo sempre... Vabbè, con le piccole è forte, è forte, alza un po' la voce, vince con le piccole. È chiaro che poi un'impressione definitiva, come diceva Gianluca, l'avremo quando inizierà con le grosse, anche in Champions con Real Madrid, non con l'Union. Però a me non dà l'idea di una squadra molto scollegata, sempre lunga. Non la vedo, non mi piace. Cioè hanno sbagliato l'allenatore, poi sarò smentito, poi magari rincerò scudetto. Ma infatti, ma perciò abbiamo rimandato tutto. Ma infatti, guarda Paolo, è talmente obiettiva e lucida la tua analisi, che veramente abbiamo rimandato tutto. Ci siamo, tra virgolette, non voglio usare il termine rassegnati perché mi sembra troppo assolutista e pessimista. Ci siamo adeguati a quella che è questa situazione, dove abbiamo visto in queste 11 partite un dato di fatto incontrovertibile, come un Napoli in grande difficoltà, lontano parente da quello dello scudetto. Mi pare chiaro, ma non lo dobbiamo certificare soltanto noi o quello che abbiamo visto in campo. Lo certifica la società con una presa di posizione importante da parte del Presidente Laurentiis, che praticamente si trasferisce di sana pianta accanto a Garzia, dopo che lo aveva, tra virgolette, un po' sfiduciato, ammettendo un probabile errore nella valutazione della scelta. Quindi è stato talmente chiaro. Ma adesso non puoi fare altrimenti. Visto che l'hai tenuto, Garzia, adesso devi aspettare. Ribadisco, fatte le pratiche Empoli e Union Berlino, che comunque devi portarle in porto, devi andarti il 25 novembre, tutto quello che è successo prima, lo resetti, e ti vai a rischiare questo all-in, questo super jolly nel calendario tra campionato e Champions per il secondo posto con Real Madrid e il campionato con Inter, Juve e Atalanta. Poi Gianluca... È talmente semplice. Certo, certo. Solo 30 secondi, anticipo un po' un tema che poi sarà quello di mercato, però mi risulta che a gennaio interverranno prendendo un centrocampista che possa giocare a due per fare 4-2-3-1, che insomma poi l'abbiamo già visto, no? Questo modulo. Perché sarà difficile togliere Raspadori quando torna Osimè. Eh, ma appunto... Sì, ma se fai 4-2-3-1 giochi con Raspadori. Lo può fare, lo può fare. Ma soprattutto perché poi perdi Osimè e Anghissa che vanno in Coppa d'Africa. Allora qui io ho scoperto il nome di un centrocampista che loro stanno seguendo molto, molto... Perché nella tua mezz'ora ci racconterai tutto anche... Certo, certo. Quindi ci sarà anche un minimo di trasformazione tattica, un minimo, no? Quindi, boh, è davvero un punto interrogativo. Ma guarda, su questa cosa, ma cerco di essere veramente in 15 secondi, cioè Garzia ha fatto sempre un po' fatica ad accettare quello che era il dogma di De Laurentiis che il Napoli doveva giocare col DNA del 4-3-3. Ha sempre detto, no, ma secondo me ci sarebbe il piano B, il piano C, non è detto. Poi perdi 2-0 a Genova, fai 4-2-3-1 e fai 2-2, perdi 2-0 col Milan, fai 4-2-3-1 e fai allora io dico, caro Garzia, a questo punto prendi la situazione in mano, incidi, vuoi cambiare modulo, ma cambialo questo modulo, cioè dai un senso alla tua presenza in panchina, fai il 4-2-3-1 e poi come ti viene, ti viene, cioè voglio dire poi se le cose vanno male, pazienza, però dai, visto che tu lo fai e non lo fai, lo fai e non lo fai, ci sta così, a un certo punto fa la battuta a fine Salernitana-Napoli, dice ma qual è il problema di Raspadori? con il suo solito sorriso sornione, il problema di Raspadori è il 4-3-3 e allora, caro Garzia, fai 4-2-3-1 e non se ne parla più. E fallo, e fallo, e fallo però, ma secondo voi, secondo anche Massimo, ma un allenatore con un po' di dignità, non si sarebbe, non avrebbe... Ma guarda che sugli allenatori di dignità abbiamo molto di cui parlare oggi, perché non è soltanto Garzia il problema. Non si sarebbe dimesso il giorno stesso in cui De Laurenti si è incontrato Conte? Ebbè, ma dimettersi è un po' fadigoso, costa un po' tanto dimettersi, 2 milioni e 8. Dal punto di vista tecnico sono d'accordo con Paolo, cioè Garzia è proprio l'allenatore sbagliatissimo ed è conclamato questo errore da parte di un presidente a cui io devo fare i complimenti perché è un grandissimo imprenditore, ha preso il Napoli che era praticamente ai libri in tribunale e l'ha portato quasi in cima all'Europa. Ha portato a vincere lo Scudetto. Ha riportato a vincere lo Scudetto dopo 33 anni, quindi ha fatto delle cose straordinarie, ma non è un uomo di calcio. Se lui perde uomini di calcio vicini a lui, come Giuntoli o come Spalletti, si deve affidare ad altri uomini di calcio, non andare lui con la sua presunzione a pensare di poter scegliere l'allenatore a fare anche, scusami se esagero un po', però anche quando disse del casting della lista che c'erano 20 allenatori, 30 allenatori, non è stato carino dire e spiattellare di professionisti come Luiz Enrique, avete visto cosa sta facendo? Infatti abbiamo visto cosa sta facendo. Ha parlato di Motta e Motta sta facendo benissimo, voleva italiano, voleva tanti allenatori, però io ti dico anche questo Paolo, ma non è che qualche allenatore di questi ha detto no, e qui chiedo anche a Gianluca, perché avere comunque a che fare con un presidente che ha litigato con Ancelotti, litigato con Gattuso, litigato con Spalletti, litigato con Sarri, cioè gli ultimi allenatori che ha avuto, ha litigato con tutti, del bene e del male. Non è che qualche allenatore ha detto no grazie, io preferisco... Ti dà una risposta per quello che do, è una domanda che faccia anche a Gianluca, no? Ecco, perché poi vorrei parlare dell'Inter. No, io so che no, gliel'hanno detto italiano, che dopo la finale di Conference aveva l'appuntamento con Barone, il Napoli l'aveva quasi aggiustato il trasferimento perché prendevano Milenkovic a sovrapprezza, 30 milioni come in Denisa Fiorentina, e invece italiano è andato a Barone e ha detto resto, e Tiago Motta ha detto di no. Poi, però, per le ragioni che elencavi tu, sicuramente Luiz e Enrique Nagesman hanno detto di no perché avevano altri obiettivi, no? Chiaramente. Però gli hanno detto di no. Ecco, Gianluca, scusa, no, poi ti avevi interpellato, mi sono inserito io, scusa. Sei d'accordo Gianluca? Ma è così, la storia l'abbiamo raccontata. No, l'abbiamo raccontata per mesi, ce l'abbiamo raccontata a sette gold per mesi, l'abbiamo vivisezionata questa storia, che Garzia non sia la prima scelta mi sembra chiaro ed evidente, ma l'ha detto lo stesso De Laurenti. E' la decima scelta. E' la decima scelta. Semplicemente quello che è stato l'Inter. Vabbè, la decima proprio no. No, no, la quinta o la sesta. No, la prima. La sesta se conti Galtier, la quinta se non conti Galtier, con Luiz e Enrique Nagesman italiano. Non nominiamo Mancini, che anche Mancini a un certo punto... A me non risultava tanto. Sì, però ragazzi, scusate un attimo, ma mi rispondete poi dopo la pubblicità. Cioè, va bene tutto quanto, può non starti simpatico De Laurentiis, tutto quanto, però stravolgere, ecco, l'idea di gioco che ti aveva, l'impronta che ti aveva lasciato spalletti e veramente cambiare totalmente gli equilibri della squadra, penso che solo un allenatore come García potesse farlo, da andare a votare sulla nostra pagina Instagram di Settegold. E vi ricordo appunto che l'ultima mezz'ora della nostra puntata sarà dedicata al calciomercato, quindi inviateci i vostri messaggi, le vostre domande. Da quello che ho capito ci ha preparato Paolo. Napoli, Inter, Juventus, Juve centrocampista, difensore del Milan, centrocampista Napoli, questi qua tutti per gennaio. Inter siamo apposto così. Sull'Inter apposto così, però lavora su un centrocampista per gennaio. No, ma lavora su un centrocampista per la prossima stagione, no? E forse anche sulla società. Colpani, Zianisti, eccetera. Allora, partiamo proprio dall'Inter. Allora, abbiamo detto, voglio andare da massimo, subito. Perché? Abbiamo detto le caratteristiche della Juve. Perché l'Inter da tutti viene indicata come la squadra da battere di questo campionato? Ma perché ha un peso specifico, secondo me, di organico più forte. Ma questa è la mia sensazione che mi dà vedendola giocare, che mi dà sempre la sensazione che può fare gol sempre da un momento all'altro, che ha questo giocatore che quest'anno è, in grazia di Dio, che è Lautaro, che ha vicino una spalla che magari non è Lukaku, ma ha altre caratteristiche che riesce ad amalgamarsi bene là davanti, che è Turam. Ecco, l'unica forse, poi ha tanti giocatori in due ruoli, dove sì c'è una differenza, perché Danfries magari non è Carlos Di Augusto. Poi c'è Quadrado adesso, anche fuori. C'è fuori Quadrado. Però non c'è tutto questo dislivello. I centrali difensivi ne levi uno, ne metti un altro, non cambia niente. L'unica pecca, se la vogliamo trovare, è nei quattro davanti che se levi quei due, o ne levi uno dei due, quelli dietro hanno, secondo me, un peso specifico inferiore. Inzaghi ti potrebbe rispondere, è vero, però quando ho tolto un giocatore dei due e ho messo Sanchez e ho vinto la partita, e ho vinto la partita di Champions, Maurizio. No, no, ma la forza è anche nell'avere Frattesi, che è titolare nazionale e sta in panchina. La forza è di aver commutato Brozovic, che era in Cialanoglu, che fa delle cose strepitose. Io credo, io credo, e io guardo anche, l'Inter fa quasi sempre cinque sostituzioni. Sì, sempre. Giusto? Ok. La Juventus ieri, secondo me, ne ha fatte tre, perché non aveva altri due giocatori validi da mettere. Non ce li aveva. Cioè, se si gira in panchina, ieri Allegri... Anche perché ha più infortuni. Beh, ma gli infortuni oggi, scusami, ma la Juve, gli infortuni che ha, sono permanenti. Cioè, Fagioli e Pogba, tu non ce li avrai più per tutta la stagione. Sono due elementi, bravi, scarsi, ma sono sempre due elementi. È come se faccio la trasmissione solo noi due o anche con voi tre. Ma voi tre non ci siete, la facciamo solo io e Paolo. Ma voi non ci siete proprio, non è che posso farvi entrare o no. Solo davanti la Juve è più forte. Davanti è forte. Incompleta, nel senso, no, però se io prendo i due Lautaro e Turam, io giro tutti gli altri... Non li raggiungo. Io tengo sempre Lautaro e Turam. Ma forse perché... Anche io, chiaramente. Forse. A oggi. Certo. Poi Lautaro scende di forma, non segna più, va bene. Ma sai anche perché? Perché Chiesa Pogba produce più gioco offensivo e quindi questi hanno più possibilità. Ieri a Firenze il povero Chiesa, hai visto? Non a caso ha messo Chiesa e Ken perché già prevedeva quel tipo di partita negli spazi. Chiesa ha fatto cinque tocchi nel primo tempo, quindi questa è stata la partita di un attaccante. No, 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 ma tranne l'attacco è certo che è inferiore. Comunque a proposito di attacco dell'Inte perché oggi le notizie sono tutte e due di oggi. Pavard ha confermato insomma la lussazione alla rotola e ne avrà adesso per quattro settimane con il tutore. E poi altre tre o quattro per ritornare, quindi se ne parla nel 2024. Quindi è il mese e mezzo buono. Sì, ma anche 2024. Mentre in attacco torna Arnautovic che domani, dopo domani c'è Salisburgo-Inter, dovrebbe andare in panchina nella sua Austria. E quindi diciamo che l'emergenza, emergenza, diciamo la coperta corta si sposta dall'attacco. Alla difesa. Alla difesa, più che difesa il settore di destra perché manca ancora Quadrado. Quindi l'Inter ruoterà adesso Darmian e Dumfries che sono diciamo quelli che partono. E poi come alternative chi ha De Vrij che può fare anche il difensore di centrodestra e Bissec che finora non abbiamo visto che potrebbe far fare a Darmian anche l'alternativa a Dumfries. Non è una... Però non è pavare. Non sono grandi alternative. Però scusami, stai parlando di leggera difficoltà. Sono quattro opzioni che ha indicato. Eh no, certo, perché una rosa, come diceva Massimo, io sono d'accordissimo che quella più completa... La rosa è troppo forte. Sono d'accordo che l'Inter è la più completa. E' anche sinergica. Ma oggi scusami, oggi ho in radio, mi hanno fatto una domanda. Qual è secondo te la sorpresa dell'anno che conferma... Io ho detto per me la sorpresa, non la sorpresa, quello che mi stupisce... La Juve, detto tu? No, 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 quella era un'altra domanda. Quello che mi stupisce più di tutti, io ho detto, è Marotta. Perché Marotta, tutti gli anni, con una proprietà puntini, 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 riesce a mettere a disposizione degli allenatori sempre squadre che possono ambire allo scudetto. Sempre, tutti gli anni. Da quando è arrivato? Dall'anno successivo, perché è arrivato insieme a gennaio, no? Però dall'anno successivo lui ha sempre messo a disposizione degli allenatori. E infatti mi stupisco che in tutti questi anni ha vinto una volta solo lo scudetto. E' vero che è arrivato in finale di Champions, però una volta solo ha vinto lo scudetto. Ha fatto, diciamo, più punti di tutti. Quello però ci fai poco, eh. Mi ricordo che anche un anno con il Milan, con Pioli, si diceva, però nell'anno solare ha fatto più punti di tutti. Sì, no, ho capito, ma per dire... Quello conta poco, però. No, ma per dire che se lotti più anni, l'Inter ha lottato anche quando l'ha vinto il Milan, quando ha vinto la Juventus di un punto, è vero che poi l'ha perso le ultime due. Sì, però ha fatto 82 punti, si è andato sopra gli 80, voglio dire. Comunque l'Inter quest'anno ha decisato. Poi ha fatto la finale di Champions, la finale Europa League. Ma io voglio fare una domanda a Michele, però, perché molti giornalisti, ti cito un nome per tutti perché l'ha fatto in trasmissione a casa Piscardi, se lo ricorderà anche Gianluca Vigliotti, cioè parlo del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zanzarone. Vabbè, ma lui è una questione. Dicono che l'Inter si è indebolita perché, perdendo Brozovic, perdendo Lukaku, perdendo Dzeko, Skriniar, eccetera, non li ha sostituiti con gli stessi. Eppure, però, poi, alla fine, invece, molti dirigono, sì, sarà, però adesso l'Inter è tutto più organico. L'Inter, su 25 giocatori in rosa, ne ha 14 diversi da Nozco, 14, sono tantissimi. Poi, però, il segreto è stato, tra virgolette segreto, quello di avere un'asse portante che è stata confermata, perché all'inizio sono partiti diversi, solo il portiere e la seconda punta a fianco a Lautaro. Poi, poco alla volta, ha inserito Pavard, adesso, vabbè, si è fatto male. Ha provato, ha iniziato a mettere dentro Frattesi. Carlos Augusto, che oggi ha ricevuto la seconda convocazione dal Brasile, vuol dire che quando entra sta facendo bene. Ha un allenatore che ha più autostima in se stesso e che è cresciuto molto. Sì, sono d'accordo, perché quest'anno... Ecco, perché l'anno scorso l'Inter sulla carta era più forte, però quest'anno è più forte nella realtà? Perché una squadra non è la somma dei singoli giocatori. A parte che l'anno scorso sono stati fuori per sei mesi Skriniar, Brozovic e Lukaku. Ma poi, per esempio, Paolo ne parla spesso su quello che quest'anno sta succedendo alla Juve a livello di collante, di armonia, anche in te, di serenità. All'Inter quest'anno c'è più consapevolezza, più serenità, più anche ossessione positiva verso il traguardo. C'è maggior ferocia domenica dopo domenica. Sì, ma non te li mangi gli avversari. Come non te li mangi? A differenza dei tuoi 1-0. L'Inter ha fatto 4-0 a Fiorentina, 5-1 al Milan, l'anno 4-0 a Salerno, 3-0 a Torino, 1-0 col Benfica dominando, 1-0 con la Roma dominando. Ma Marcello, l'Inter è incriticabile, dai. Io ho visto divorare una squadra sola, il Milan. Ma come? 4-0 con la Fiorentina non l'hai visto? Vabbè, Marcello, ma non è che il Barcellona di Guardiola, eh? Eh, certo. Però ti posso fare una domanda sull'Inter? Scusa, mi hai visto che hai detto che la Juventus non ha fatto mercato, l'ha fatto perché... Poniamo il caso. L'Inter l'anno scorso... Tu l'hai detto che non ha fatto mercato. Scusa, hai detto tu, l'ho detto io. No, dico che la Juve non ha fatto mercato, l'hai detto tu. No, tu hai detto che la Juventus ha un organico... Vabbè, ma è vero. Meno profondo. Meno profondo. Ok, ti faccio una domanda. Se l'Inter, dopo la finale di Champions, persa, poniamo il caso, invece che non gli levano i 10 punti alla Juve, il Milan fa un finale straordinario, l'Inter arriva a quinta. Fanno lo stesso mercato o no? No? No. L'Inter non può fare lo stesso mercato. Come non può fare? È arrivata a finale di Champions che ti dai soldi, eh? Non è che non ti dai soldi. No, perché tu fai la proiezione della nuova. nuova stagione, hai già sicuro degli introiti matematici in meno. Sì, ho capito. E quindi secondo te non avrebbe fatto questo mercato che ha fatto? Eh no, avrebbe dovuto... Cioè non sarebbe andata a cercare Lukaku, non avrebbe preso Turam, non avrebbe preso Pavard. Per me non avrebbe preso Pavard. Avrebbe dovuto tagliare... No, però scusate, anche quando prima si parlava di... Mi sembra, lo diceva Marcello, non mi ricordo adesso. Io penso di no. Da chi lo diceva, cioè se uno chiude... La Juventus ha chiuso a meno 125, l'Inter ha chiuso a meno 85. Devono tutti rientrare... Il Milan ha più 6. Il Milan ha più 6. 6 sono stati finanziamenti che erano stati fatti dalla stessa proprietà all'Inter e li ha convertiti in patrimonio del club. Qui ha dovuto mettere, perché devi ripianare, è obbligatorio come la Juve. Però io voglio approfittare di questo che sei per andare a Napoli. Devi avere costi e ricavi in equilibrio, questo tutti per forza. Voglio approfittarne, perché... Gli faccio una domanda a Gianluca che in realtà è ispirata un po' da commisso. Perché il Napoli, cheppure ha una rosa molto, molto competitiva, rispetto a Inter e Juventus, ha dei conti che sono perfetti. Allora, non viene un po' da spiegarsi, ma insomma c'è un po' uno squilibrio, un'ingiustizia, se vogliamo chiamarla così, tra le squadre che possono permettersi di fare debiti e le altre che stanno invece attente e riescono comunque a costruire una rosa competitiva. Stanno tutte attente verso Maurizio e Nani. Ma questo, guarda, sul Napoli, e credo che possiamo allargare il discorso anche alla Lazio, la questione del bilancio, cioè Napoli è stato capace di vincere uno scudetto riducendo addirittura il monte in Gaggi e anche quest'anno. Quest'anno addirittura uno delle, in questa situazione che il Napoli non è andato benissimo in quest'avvio e dicono ha sbagliato De Laurentiis perché rispetto a quello che è stata sempre la sua gestione doveva vendere Osimè. Cioè tu pensa a te, cioè vendere Osimè quando tutti quanti all'inizio abbiamo fatto i complimenti che nonostante rinunciasse a una barca di soldi ha tenuto Osimè per tenere ovviamente una squadra molto competitiva. Ma il discorso dei bilanci e dei mercati non è che dobbiamo farlo stasera, la Juve è costretta a ripianare ma perché ha la forza di farlo. Il Milan piano piano cerca di rimettersi a posto e l'Inter è oggetta o soggetta a queste situazioni dove deve cedere tantissimo ma poi fa un buon mercato, va a parametro zero. Però il Napoli su questo è irreprensibile, cioè il discorso bilancistico del Napoli e gestionale è assolutamente irreprensibile, credo che vadano fatte semplicemente e soltanto i complimenti al Napoli sotto questa situazione. Cioè a questo proposito perché diamo dei numeri come riferimenti, la Juventus paga i suoi giocatori di stipendi 130, l'Inter 115, poi c'è la Roma a 100, poi c'è il Milan 85 e il Napoli 70. No, no, perché questo Marcello, cioè se uno paga la forza lavoro superiore, conta. Ma sì, ma ho capito, la Juve ha fatto degli errori. Eh, ma l'ho capito. L'ha detto pure Allegri in una conferenza stampa. Ho capito, ma sono dei riferimenti, non sto dicendo un'accusa. Il giocatore è a prenderti i soldi. Anzi, ti dico che è una forza perché per esempio la Juventus al netto delle... No, continui, no, tu continui. Allora non ti dico gli stipendi. Hanno il Montengaggi più alto di tutti gli altri. No, no, ti sto dicendo, quindi se mi fai finire la frase, poi ci sono i ricavi strutturali. Cioè al netto delle plus valenze la Juventus quest'anno fa 400, quasi 40, il Milan fa 400 e l'Inter fa quasi 396. Quindi siamo lì, ormai questi sono i tre brand, anche in prospettiva futura, perché ne parlavamo in ottica mercato, Inter, Milan e Juventus hanno tre brand che avranno più possibilità dello stesso, per esempio, Napoli o della stessa Roma. Ad oggi è così per ricavi, per ricavi. Al di là del passato. E allora ci dobbiamo fermare. Siamo a distanza. Io mi avvicino a Paolo, sai perché mi avvicino a Paolo? Perché cito Dante, per me si va tra la perduta gente, per me si va nell'eterno dolore. Ah, era la definitiva. E allora perché? Perché adesso entriamo nel mondo Milan. Il nostro caronte, Paolo. Definitive le cose dantesche, qui non sono definitive per fortuna. È vero, però ci sono gironi. Si può anche andare più. Gironi può succedere di tutto. No, domani sera si può andare più. L'inferno ci sei due. Allora, noi andiamo in pubblicità, chiudiamo il discorso Inter e Juventus, appunto come già anticipato da Maurizio e da Paolo, torneremo parlando di Milan.